Ma contento lui, gli ho spiegato che lui non ha toccato palla né in politica estera né in Europa. Ha ceduto di fatto la sua sovranità, la sovranità dell'Italia alla Germania, in cambio di un piatto di lenticchie, cioè un po' di deficit per comprarsi il consenso all'interno del paese. Questa strategia è disgraziata semplicemente perché distrugge l'Italia ma distrugge anche l'Europa. Con il referendum britannico nel 2017, quando il ciclo delle cattive riforme di Renzi sarà compiuto, se sarà compiuto non ci sarà probabilmente più l'Europa. E questo è il prodotto dell'Italia renziana, del cinismo opportunistico renziano, della sudditanza opportunistica di Renzi.